Buongiorno a tutti, fino ad adesso abbiamo parlato di storie, miti e leggende, ma non di chi ce le ha raccontate, anzi cantate. Le abbiamo udite dai cantori dell'antica Grecia, da menestrelli, giullari, bardi, scaldi, da trovatori e trovieri medievali e da cantastorie, naturalmente, tutte figure presenti in culture anche molto distanti dalla nostra. Ovviamente, quando parliamo di menestrelli e giullari, l'immaginario collettivo rimanda dei pagliacci tutti pieni di campanelli che prima o poi finiscono in pasto i coccodrilli. Ed è sbagliato, poiché stiamo parlando di professionisti che si guadagnavano il pane raccontando geste e accadimenti. Erano girovaghi, figure poetiche semplici e popolari, ma anche artisti di corte che potevano svolgere il ruolo di cronisti e ambasciatori. Rivestivano, insomma, un notevole ruolo sociale. Se invece ci riferiamo a trovatori e trovieri, allora è tutt'altra cosa. Si tratta di poeti musicisti, spesso di origine alto locata in cui componimenti hanno come tema comune l'amor cortese e che ebbero una notevole influenza su Dante e Petrarca. Ed è di un celebre trovatore che vi voglio parlare. Parlo del grande Réambou de Vaccarne che insieme a Bertrand de Bonn, Per Vidal e Golsanfedi fu uno dei trovatori provenzali più insigni nella poesia e nella musica vicini ai costumi delle corte del nord Italia, vale a dire le corti orbertenghe, alle rami che in particolare presso Bonifaccio primo di Monferrato. Un mecenate molto attento a coltivare la propria immagine di cavaliere indomito e senza macchia. Dopo essersi fatto le ossa presso i sovrani di Boe alla corte dei Malaspina, Arambou de Vaccarne, che in alcuni testi è citato come Raimbaldo di Vaccarne, di castello in castello cantò le geste e le battaglie dei cavalieri fino ad arrivare, come appena detto, nel Monferrato presso Bonifacio I, che lo armerà cavaliere. Arambou infatti sapeva anche combattere. Restò al fianco del marchese come scudiero, non solo come poeta, e i due diverranno inseparabili amici e compagni di numerose imprese cavalleresche, salvando principessa e sgominando briganti. Parteciperanno insieme alla quarta crociata nel corso della quale, pare, morirono insieme, vittime di un'imboscata per mano di ribelli bulgari sui monti Rodopi. Ma veniamo ora alla nostra leggenda, scritta verso la metà dell'Ottocento, dallo storico Pietro Corelli. Siamo nel 1192, circa 113 anni prima della nascita della dinastia dei Paleologi, come abbiamo raccontato nel video dedicato alla leggenda del fantasma di Camino. E il nostro trovatore si reca casale per farsi ricevere dal marchese Bonifacio I di Monferrato. Si scrolla di dosso la polvere di un viaggio, attraversato montagne, boschi e foreste, per rimanere affascinato dalle vigne di quelle colline e allarmato dalla diffidenza dei suoi abitanti. Una volta al cospetto di Bonifacio, il marchese gli chiede che cosa lo abbia spinto ad andare fin là. E naturalmente il trovatore risponde che desidera cantare le sue gesta, ma nota che il marchese è afflitto. Infatti il signore di Pomaro, per un'oscura vendetta, ha fatto rapire sua figlia Adelaide, la gemma del Monferrato. Ma il marchese non può andarla liberare, perché se infatti muovesse il suo esercito di cavalieri verso il castello, di certo il suo mortale nemico la copperebbe. Allora, sentito questo, il nostro Rambaldo decide seduta stante di andare a liberare Adelaide e parte da solo. Giunto a Pomaro, la signora del castello, Garsenda, accetta di farlo suonare a corte. La sua esibizione lascia sterrefatto il padrone di casa che decide di omaggiarlo con un cavallo. Invece Garsenda è rimasta talmente sedotta dal trovatore a tal punto da volerlo aiutare nella sua segreta impresa. Ha infatti intuito le sue intenzioni, liberando così Adelaide dalla torre in cui era segregata da almeno due mesi. Nottetempo, Rambaldo e Adelaide, cavalcando, fanno finalmente ritorno a casa. Caricò di onori da quel giorno, Rambaldo seguì il signor di Monferrato in ogni sua impresa cavalleresca e si innamorò di Beatrice, la bellissima sorella del marchese, alla quale dedicò canzoni, indicata con il nome di Bel Chevalier. Purtroppo l'epilogo non fu felice per Garsenda, la quale pagò con la vita il suo gesto. Fu infatti strangolata dal marito. Bonifacio I, fondatore del regno di Tessalonica, è dipinto come un grande feudatario, rappresentante dell'etica cavalleresca celebrata dai cantori di allora e non solo. Ne parla ad esempio Carducci nel suo Cavalleria e Umanesimo. Ma le antiche biografie sono da prendere con grande cautela. In quella dedicata a Rambaldo ci sono anche degli errori, ad esempio Adelaide o Alasia o Adelasia, che dir si voglia, contessa di Saluzzo, non fu la figlia di Bonifacio I, come a volte riportato in svariati testi, ma sua sorella. Inoltre la leggenda appena raccontata afferma che l'andò in sposa a Ruggero II di Sicilia, cosa impossibile perché vissuti in epoche differenti. Forse si sono confusi con Adelasia del Vasto, regina di Gerusalemme famosa per aver redatto nel 1109 il mandato di Adelasia e per aver portato ai Carmelitani in territorio italiano, che però fu madre di Ruggero II. Per il momento è tutto, ma torneremo presto a parlare di leggende monferrine. Grazie per l'ascolto e al prossimo video!